1 verso 1 e verso 2. È l'introduzione a questo libro scritto da Luca, che Paolo definisce il caro medico e che stasera vogliamo considerare insieme. Nel mio primo libro, O Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare fino al giorno che fu elevato in cielo dopo aver dato, mediante lo Spirito Santo, delle istruzioni agli apostoli che aveva scelto. Amen. Chiudiamo gli occhi. Signore, ti vogliamo ringraziare perché la tua parola è meravigliosa, qualunque passo o verso ha sempre un insegnamento da dare alla nostra vita e stasera ti vogliamo chiedere con tutto il cuore che parli secondo il bisogno che c'è e che tu conosci e fallo per mezzo del tuo spirito, Dio, affinché possiamo essere toccati e possiamo, Signore Dio, sentirci in dovere di adempiere ogni cosa che ci verrà da parte tua. Ti ringraziamo e ti chiediamo tutto nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. State comodi, gloria a Dio. Libro degli Atti, scritto da Luca, come vi dicevo, questo libro è la continuazione del Vangelo di Luca e racconta un po' la storia dei primi trent'anni della Chiesa del Signore. Detto Atti degli Apostoli, a dir il vero più che Atti degli Apostoli, sono Atti dello Spirito Santo e del Signore glorificato perché gli Apostoli sono stati strumenti nelle mani del Signore e tramite l'unzione dello Spirito Santo hanno potuto fare tutto quello che troviamo scritto in questo libro. E' un libro che è raccontato in parte in prima persona da Luca e che per comprendere anche meglio questo aspetto in Atti 16 leggiamo ad esempio dal verso 6 che poi attraversarono, quindi Paolo, scusate Luca sta parlando di Paolo e di altri ma non di sé, attraversarono la Frigia e la regione della Galazia perché lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia e giunti ai confini della Missia cercavano loro di andare in Bitinia ma lo Spirito di Gesù non lo permise. Oltrepassati la Missia discesero a Troas e, scrive Luca, Paolo ebbe durante la notte una visione, un macedone che stava davanti e lo pregava dicendo passi in macedoni e soccorrerci e appena avuto quella visione cercammo noi, quindi anche lui, di partire per la macedonia convinti che Dio ci aveva chiamati, ci aveva chiamati per annunziare il Vangelo. Ci fa capire che a Troas Luca si unisce al gruppo di Paolo e dei missionari che erano partiti e quindi da quel punto in poi racconta quello che lui vive e vede. Prima racconta quello che gli era stato detto da parte di Paolo, da parte di qualcun altro che era insieme a loro. E quindi nel vedere questo aspetto vogliamo sempre dire signore aiutaci a parlare delle cose belle che tu fai per mezzo del tuo popolo e aiutaci anche a vivere in prima persona delle esperienze belle da poter noi raccontare. Come Luca in altre parole vogliamo dire ciò che gli altri hanno fatto per la gloria di Dio ma vogliamo pregare signore aiutami affinché anch'io possa raccontare di cose che tu fai per mio mezzo affinché l'Evangelo possa crescere e prosperare. E in fin dei conti poi quello che è scritto al primo verso ci dice qualcosa al riguardo perché Luca scrive nel mio primo libro teofilo parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare. Questo primo libro è il Vangelo di Luca. Ora noi crediamo che la parola di Dio è ispirata e che l'ispirazione è plenaria, cioè noi non crediamo che la Bibbia contiene la parola di Dio, noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio. E che significa questo? Che ogni verso, ogni parola e ogni aspetto anche della composizione della costruzione grammaticale della Bibbia è ispirata da Dio. D'altronde dice l'apostolo Pietro che nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sono spinti dallo Spirito Santo. Quindi nulla è scritto a caso e nulla è scritto perché c'è una idea letteraria dell'autore. Tutto è guidato dallo Spirito Santo e quindi se qui dice, e questo è qualcosa che probabilmente abbiamo riflettuto anche altre volte, che Luca racconta quello che Gesù fece e insegnò e non quello che Gesù insegnò e fece, vuol dire che c'è un messaggio per la nostra vita. E il messaggio qual è? Il messaggio è che prima viene rifare e poi viene l'insegnare. E questo deve riguardare diversi aspetti della nostra vita, sia riguardo alla nostra testimonianza, sia riguardo al nostro modo di vivere, sia riguardo al nostro modo di rapportarci con gli altri. La nostra testimonianza. Sotto due aspetti riguarda. Innanzitutto, quando noi testimoniamo del Signore e parliamo del Signore, dovremmo sempre dire ciò che il Signore ha fatto e ha insegnato. Lo dovremmo sempre raccontare. Le nostre testimonianze, in altre parole, devono essere, si dice in un modo un po' complicato, cristocentriche, cioè incentrate sulla persona di Cristo. La nostra testimonianza non è vieni nella nostra comunità perché siamo belli, bravi, simpatici, cantiamo bene, suoniamo bene e ci troviamo bene. La nostra testimonianza è vieni a vedere le grandi cose che Dio ha fatto. Sto citando un salmo. Cioè vieni perché ti vogliamo raccontare, vogliamo condividere con te le cose gloriose di Gesù, perché poi è Gesù la persona più importante in mezzo a noi o no? Anche quando viene un fratello ospite da lontano, un evangelista, un pastore, quello che è. Noi ringraziamo Dio per questi servi del Signore, ma il vero protagonista, la vera guest star, l'ospite importante, rimane chi? Il Signore, perché è lui che deve essere al centro del nostro culto. E quindi noi dobbiamo sempre raccontare quello che Gesù ha fatto e ha insegnato. Dobbiamo sempre dire agli altri quello che Gesù ha fatto e ha insegnato. Questa è la nostra testimonianza. Poi certo raccontiamo quello che il Signore ha fatto in noi, quello che il Signore ha fatto in mezzo a noi e quello che delle opere del Signore leggiamo nella parola di Dio. Questa è la testimonianza, nulla di particolare, nulla di difficile. Ecco perché tutti i cristiani possiamo testimoniare del Signore, perché non è richiesto un titolo di studio, non è richiesta una particolare capacità di esprimersi. Quello che è richiesto è saper raccontare le cose del Signore. Quindi la nostra testimonianza deve sempre riguardare quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare. E questo si riflette anche sul nostro modo di testimoniare, non solo nel contenuto, ma anche nel modo di rapportarci. Cioè noi dobbiamo ricordarci che prima ancora della nostra testimonianza verbale viene la nostra testimonianza di vita pratica. Prima quello che facciamo, poi quello che diciamo. L'esempio sciocco. Io non posso dire che il Signore ha cambiato la mia vita se poi vivo esattamente come vivevo una volta. O mi sbaglio? E dov'è il cambiamento? Mi direbbe chi mi guarda. Quindi devo rendermi conto che io posso e debbo sempre prima fare e poi dire, in modo tale che quello che dico non sia contraddetto da quello che faccio. E quindi non solo dobbiamo parlare di quello che Gesù ha cominciato a fare e insegnare, ma noi stessi nel testimoniare dobbiamo dimostrare che c'è un'opera che Dio ha iniziato nella nostra vita, che ancora non è finita, perché non abbiamo raggiunto la perfezione, che sta continuando e che giorno per giorno si manifesta nelle persone che sono intorno a noi. E quindi questo cominciare a fare e insegnare è qualcosa di fondamentale, che deve, ripeto, contraddistinguere la nostra testimonianza. Non solo la nostra testimonianza, ma quindi anche il nostro modo di vivere l'Evangelo, perché l'Evangelo appunto è qualcosa che ha delle conseguenze pratiche. L'Evangelo non è una bella teoria filosofica, non è una bella dottrina campatinario. L'Evangelo è quotidianità spicciola. E allora nell'essere cristiani ci dobbiamo ricordare che vale quel principio, o meglio quel proverbio che Gesù stesso citò, che non si trova in un altro punto della Bibbia, quindi era un detto popolare, ma cui Gesù nel citarlo dà un valore quasi spirituale, e cioè medico cura te stesso. È un proverbio che a un certo punto Gesù cita. Perché questo? Perché quando noi non precediamo il nostro insegnare con il nostro fare, è molto probabile che chi ci guarda e chi ci ascolta ci dirà, magari in cuor suo, medico cura te stesso. Ora provate a immaginare una famiglia cristiana dove ci sono marito e moglie, di cui in cui la moglie è credente e il marito non lo è. E la moglie che non prega mai dice al marito, ma guarda che se tu vuoi risolvere i tuoi problemi tu devi affidare, tu devi pregare il Signore. Che gli risponderà il marito non credente alla moglie credente? Medico cura te stesso. Cioè inizi a pregare tu, visto che mi dici che è buono pregare. Che se ti vedo pregare, comincerò a pregare anche io. Ho immaginato un marito credente che non legge mai la Bibbia e dice alla moglie, sai, è fondamentale leggere la parola del Signore. Cosa gli dirà in questo caso la moglie al marito? Medico cura te stesso. Cioè se è talmente importante leggere la parola di Dio, comincia a leggerla tu che poi io seguirò il tuo esempio. Provate a immaginare dei genitori che pretendono dei figli che vadano alla scuola dominicale, allo studio biblico, culto e loro non vanno mai. Cosa gli diranno i figli? Medico cura te stesso. Cioè se è tanto importante, comincia ad andarci tu che poi ci vengo anch'io. Quindi prima viene il fare e poi viene l'insegnare. L'Apostolo Paolo dirà, prima Corinzi 4.6, fratelli, ho applicato queste cose, le cose di cui stava parlando, a me stesso e ad Apollo, perché per mezzo nostro impariate a praticare il non oltre quello che è scritto. In altre parole, affinché noi lo potessero insegnare agli altri. Ciò che dovevano praticare, Paolo e Apollo, che evidentemente a Corinto sono stati da Dio usati per l'insegnamento nella Chiesa, applicavano le cose a loro stessi. Cioè prima di dire agli altri fratelli bisogna pregare, che facevano Paolo e Apollo? Pregavano. Prima di dire agli altri fratelli bisogna vivere una vita che onore il Signore, onesta, cosa facevano Paolo e Apollo? vivevano una vita onesta che onorava il Signore e i credenti di Corinto non potevano dire a Paolo e Apollo medico cura te stesso, perché loro stavano già facendo quello che insegnavano. Quindi prima di parlare dobbiamo essere, come dire, nella condizione di farlo e per farlo dobbiamo applicare a noi i principi della parola di Dio. Quello che Gesù cominciò a fare, a insegnare. Quindi noi prima dobbiamo fare, poi possiamo insegnare agli altri ciò che è necessario fare per la gloria di Dio. Paolo dirà a Timotio, un giovane pastore, vada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Un conduttore di comunità non può pretendere che i credenti evangelizzino se lui non è in testa alla comunità stessa quando c'è l'evangelizzazione. Un pastore non può pretendere che i credenti siano delle persone che si sforzano di frequentare la comunità se lui stesso quando è il culto chiama ogni sera e dite fratelli stasera mi dispiace non posso venire, fratelli fate tra di voi eccetera eccetera. Sono cose che succedono di tanto in tanto ma non può essere l'abitudine. Quindi noi dobbiamo badare a noi stessi, applicare gli insegnamenti della parola di Dio alla nostra vita e poi possiamo dire agli altri fai anche tu così perché se no rischiamo di essere un po' come i farisei del tempo di Gesù ai quali Gesù dice fate dunque e osservate tutte le cose che vi dicono i farisei ma non fate secondo le loro opere perché dicono e non fanno e legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente ma loro non gli toccano neanche con un dito. Noi per grazia di Dio siamo cristiani non farisei e quindi non dobbiamo essere di quelli dei quali si dice facciamo quello che dicono ma non imitiamo il loro comportamento anzi dobbiamo essere delle persone di cui si dice imitiamo il loro comportamento perché fanno quello che dicono. Sono cristiani non perché si sono dati questo nome ma perché veramente si vedono che seguono Gesù. Sappiamo bene che ad essere chiamati cristiani scusate per la prima volta i seguaci di Gesù furono chiamati cristiani ad Antiochia non furono loro che andarono in piazza a dire noi siamo cristiani furono gli abitanti di Antiochia che dissero quelli sono cristiani perché perché facevano quello che Cristo facevano faceva e insegnavano quello che Cristo insegnava quindi bisogna prima fare e poi si può insegnare. Vi racconto una storia mi permetto di farlo perché grazie a Dio ci vogliamo bene e ci rispettiamo l'uno con l'altro e quindi non vi può venire in mente che voglio dire qualcosa tra le righe anche perché non è mia abitudine farlo io quando devo dire una cosa la dico alla persona direttamente. Una volta andò qualcuno da Spurgeon e perché? Perché era andato in visita in una comunità aveva portato un bel messaggio sapete che Spurgeon era un predicatore straordinario signore gli ha dato un talento veramente notevole e alla fine del culto questa sorella si avvicina da Spurgeon e gli dice fratello che bella una predica bellissima meravigliosa non come il nostro pastore e ha cominciato aveva cominciato a dirgliene di tutto contro i pastori fratello la fermò gli disse aspetta fermati che che sta succedendo che no ma il nostro pastore non ha portato mai anime nuove in chiesa il nostro pastore non fa questo il nostro pastore aspetta fermati ragioniamo ma dimmi una cosa gli disse Spurgeon ma tu lo sai che non sono i pastori che partoriscono le pecore scusate gli agnelli ma sono le pecore che partoriscono gli agnelli cosa vuoi dire? Eh voglio dire che più che preoccuparti di quanti anime nuove ha portato il pastore in chiesa ti dovresti preoccupare di quanti anime nuove hai portato tu perché i pastori partoriscono altri pastori sono le pecore che partoriscono gli agnelli fratello ma allora tu cosa vorresti dire con questo no ti vorrei dire che anziché pensare a lui dovresti pensare a te stessa e a quello che tu fai a quello che tu vivi nella tua vita quali cure hai dimostrato verso questo pastore di cui stai parlando tanto male ma come lui che deve curare me certo che lui che ti deve curare ci mancherebbe ma anche tu devi curare lui perché un pastore che cura una pecora dalla pecora riceve la lana e il latte non la cura in vano la cura e da quella pecora riceve qualcosa e allora anziché di preoccuparti le cure che il pastore ti dà ti stai preoccupando di dare lana e il latte al tuo pastore e questa sorella un po' indispettita se ne andò sbuffando e Spurgeon la chiamò e gli disse senti un'ultima cosa te la devo dire i pastori curano le pecore non le capre come te ora noi tante volte ci preoccupiamo di quello che gli altri fanno e non ci preoccupiamo di quello che noi facciamo ma dio ci dia grazia di essere credenti che fanno e poi insegnano una volta un fratello anziano mi disse il fratello raudi di un giovane e mi disse indicando dice quello là è andato all'istituto biblico vorrebbe fare il pastore ma non può fare il pastore e lo sai perché ho detto io no perché non è mai stato pecora e uno che non è pecora non può fare il pastore noi dobbiamo prima fare e poi possiamo insegnare e signore ci aiuta a prendere esempio da gesù perché poi il nostro esempio perfetto rimane sempre gesù cristo il nostro signore e salvatore se lui prima ha fatto e poi è insegnato anche noi dobbiamo fare altrettanto quindi l'oggetto della nostra testimonianza è quello che gesù ha fatto e ha insegnato il nostro modo di vivere fare e insegnare e nel valutare i fratelli e le sorelle dobbiamo sempre usare anche questo principio perché noi siamo molto attratti dalle parole e nel mondo di oggi di persone che sanno parlare bene di incantarci raccontando le cose in un certo comodo ce ne sono tante ma noi dobbiamo essere semplici come colombe o no mi sbaglio no ma dobbiamo essere anche prudenti come serpenti perché negli ultimi giorni soggeranno molti falsi dottori falsi insegnanti ci saranno tanti lupi travestiti da pecore e non ci dobbiamo mai dimenticare che satana stesso si traveste da angelo di luce quindi dobbiamo essere attenti come facciamo a valutare la spiritualità di una persona voi mi direte noi non dobbiamo giudicare nessuno noi non dobbiamo parlare male di nessuno né sparlare di nessuno ma noi dobbiamo giudicare ce lo dice la bibbia questo è gesù che ci ha detto che noi dobbiamo giudicare l'albero dai frutti e gesù non stava facendo un trattato di botanica ma stava dicendo che noi dobbiamo stare ben attenti per evitare di essere trascinati verso l'errore e allora anche qui questo principio quello che si fa e quello che si insegna è fondamentale di una persona dobbiamo guardare se quello che ci dice giusto secondo la parola di dio lo fa perché se lo fa e poi lo insegna è una persona spirituale ma se lo dice soltanto e non lo pratica state stiamoci attenti stiamo molto attenti perché forse quella persona non è quello che appare e potrebbe essere un inciampo nella nostra vita e allora proprio per questo dobbiamo imparare ad essere persone che come maria la madre di gesù servo osserva le cose serva tutte le quello che avviene in cuor suo per meditare su di esse e cercare di capire quello che avviene questo mese di febbraio o inizio marzo non mi ricordo ora siamo stati al convegno pastorale al reggio per abbia e la moglie del fratello labbate mi ha detto di un giovane di sai quel giovane quest'anno al campeggio sapeva che è venuto al turno è stato particolarmente toccato e io vi dico la verità di questo giovane non mi ricordavo non l'avevo mai visto passare avanti agli appelli sapete uno di quei giovani che sono presenti che conosci ma che poi tu alla fine del turno pensi ma questo non ha fatto nessuna esperienza e invece proprio questo ragazzo qua mi diceva un ragazzo di 14 15 anni ha fatto una bella esperienza e mi ha detto sai da cosa l'ho capito dal fatto che da quando è tornato dal campeggio la prima cosa che ha fatto è andato da mio marito e gli ha detto fratello da oggi in poi qualsiasi bisogno c'è nella chiesa devi chiamare me e da quando ha preso questo impegno ogni volta che mio marito lo chiama anche se sta giocando a pallone lui lascia il pallone prende viene in chiesa perché vuole servire il signore perché un credente è stato toccato veramente da parte di dio quando sente nel suo cuore il desiderio di servire il signore perché di parole ne sappiamo fare tutti io forse pure tanto ma quello che conta non è quello che diciamo quello che conta è quello che noi facciamo gesù prese prima a fare e poi a insegnare e più grande insegnamento che lui ha lasciato forse da un punto di vista pratico lo vediamo proprio nel cenacolo quando si ritrova insieme ai suoi discepoli ed è venuto il momento in cui bisogna fare la cosa più antipatica di questo mondo tant'è che si usava uno schiavo cioè lavaggio o la lavanda dei piedi siccome gesù prende a fare e a insegnare la prima cosa che fa non è dire bisogna essere umili e lavare i piedi gli uni agli altri ma si alza prende l'asciugatoio si cinge lava i piedi a tutti quanti e poi alla fine gli dice se io che sono maestro e signore ho fatto questo anche voi dovete servirvi gli uni con gli altri perché l'ho fatto per lasciarvi un esempio gesù ha fatto e poi ha insegnato un credente che ama il signore prima fa e poi insegna prima agisce e poi parla e quindi noi quando abbiamo davanti a noi qualcuno non dobbiamo essere come quei fratelli di cui mi raccontava un pastore che appena sentono dire qualcuno gloria a dio ah sì 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 quello è salvato no aspetta calmo stiamo calmi se è salvato se è salvata dobbiamo vederlo nel tempo perché è la costanza e la perseveranza che ci parla di un'opera del signore perché i fuochi di paglia ce ne sono tanti o no ma quei fuochi servono a poco noi abbiamo bisogno di un fuoco che sia costante nel tempo e allora non fidiamoci di chiunque viene e ci dice io sono un servo del signore io sono salvato io sono un fratello io sono tutto quello che volete voi ma valutiamo il servizio di quella persona voi vi ricordate l'apostolo paolo l'apostolo paolo era un uomo di dio ed era ai suoi tempi una come dire una vera e propria istituzione lo è probabilmente anche per noi a un certo punto avviene qualcosa avviene che secondo quello che il signore gli aveva detto doveva rendere testimonianza anche a roma e dio lo fece passare per una via molto tortuosa viene preso viene processato lui si appella a cesare quindi con la nave deve essere portato verso roma la nave sulla quale sale a un certo punto fa naufragio e nel fare naufragio arriva sull'isola di malta e mentre sono su quest'isola paolo che nel viaggio era stato ancora una volta uno strumento di dio per incoraggiare quelle persone perché gli disse mangiate perché ormai sono tre giorni non mi ricordo che non state mangiando mangiate tranquillamente perché un angelo dell'idio che io serve mi ha rivelato che nessuno di voi perirà eccetera eccetera arriva sull'isola e quando arriva sull'isola siccome erano tutti bagnati e umidi la prima cosa che bisognava fare quando venne raccolti era mettersi intorno a un fuoco per riscaldarsi ora paolo avrebbe potuto dire dall'alto della sua autorità apostolica vai a raccogliere un po' di legna per scaldarmi ma che fa paolo l'apostolo delle genti il grande predicatore lo scrittore della dottrina del nuovo testamento schiocca le dita come fonzi per mandare qualcuno si alza va raccoglie la legna e mentre raccoglie la legna un serpentello una vibora che era lì presente lo morde e lui la scuoterà perché quando uno è servo è servo in tutto non in alcune cose e se uno è servo deve servire perché un servo che non serve non serve è inutile in altre parole e allora valutiamo le persone vi ripeto non sulla base di quello che dicono ma sulla base di quello che fanno e allora prenderemo meno cantonate e meno musate di quelle che magari forse spero di no abbiamo preso nella nostra vita quello che gesù prese a fare e a insegnare è l'oggetto della nostra testimonianza quello che gesù prese a fare e a insegnare deve diventare lo stile della nostra vita quello che gesù prese a fare e a insegnare è un buon criterio per stabilire la spiritualità e l'affidabilità cristiana di chi è intorno a noi per evitare di finire in mezzo a falsi fratelli che potrebbero portarci lontano dalla grazia di dio il signore ci aiuti a ricordarlo e soprattutto che il signore ci aiuti a vivere una vita che l'onora preghiamo il signore chiudiamo i nostri occhi chiudiamo il nostro dà gloria al nome del signore gloria al nome del signore